Beautiful, News Usa, l'addio di Idi e il dramma di Bill. Anticipazioni Beautiful, ne vedremo delle belle nel corso dei prossimi episodi della sua app. Ben trovati con le anticipazioni della sua popera di canale 5 Beautiful, la serie, che racconta le avventure dei forester, e che va in onda dal lunedì al sabato raccogliendo una media di circa 3 milioni di telespettatori. Oggi vogliamo fare un po' il punto su quello che sta accadendo in America, e che promette di riservare tantissime sorprese al pubblico. Saranno tantissime le storie a centro dell'attenzione e a catalizzare l'attenzione del pubblico sarà, sicuramente, il personaggio di Bill Spencer. Come saprete, il Ticone ha passato una notte d'amore con la nuora Steffi Forrester. I due si sono pentiti subito per quanto accaduto e Steffi ha cercato di mantenere il segreto anche se a Beautiful le bugie hanno le gambe corte e Liam ha scoperto tutto nel giro di poco tempo. A questo punto, il giovane ha lasciato la moglie e ha avuto uno scontro col padre. Un giallo coinvolgerà Bill. Le anticipazioni americane di Beautiful ci informano di come Bill si ritroverà ad avere un pesante confronto con Liam ma anche Rige e Bro che verranno a conoscenza di quanto avvenuto tra lui e Steffi. Addirittura, Rige piomberà furioso nell'ufficio di Bill e lo picchierà. Come avrete capito, saranno tante le persone ad avercela condollarvi e nei prossimi episodi sembra proprio, che l'editore possa finire in ospedale. Ancora, come segnala TV Swap, non è dato sapere le reali condizioni di Bill, e che cosa succederà ma c'è da scommettere che quanto avverrà all'uomo possa coinvolgere numerosi personaggi della Swap. Insomma, le sorprese non mancheranno e ne vedremo delle belle. Chi va e chi viene nella Swap? Stando alle anticipazioni di The Autiful, presto dovremo dire addio a uno dei personaggi di The Autiful, che ci ha accompagnato negli ultimi anni. Infatti, ora pare confermata l'uscita di scena di Evie Forrester, la nipote di Eric, che nel corso di svariate stagioni della Swap ha avuto delle travagliate relazioni con Liam, Thomas, Evie e molti altri. Insomma, le sue storie hanno appassionato tantissimo i telespettatori ma per la sua interprete Ashley Gdrewer è ora di abbandonare The Autiful. Probabilmente, la sua dipartita non sarà definitiva e c'è da credere che possa rientrare più avanti nelle storie della sua famiglia. Proprio nelle ultime ore, tra le altre cose, è emerso come Pierre Sonfaudet, interprete di Thomas, si rivedrà per alcune puntate della sua popera. Che cosa combinerà il giovane Forrester? Grazie a tutti.